Siamo dette di ogni? No, ma io guardi, sono perché possono parlare tutto, ecco, mi stupisco che in questo Paese i liberali ormai non ci sono più, le persone che combattono quella libertà sono meno tutti i giorni, perché prima mi sono sentita dire dal direttore del giornale che siamo pragmatici, io sono super pragmatica, proprio nella vita, come atteggiamento, ma non è che voglio raccontare delle balle, ma se uno fa delle domande per far cascare l'asino, perché io credo che un politico non debba fare una cosa, raccontare delle balle, io credo che questo per un politico sia una roba tremenda, allora se io mi sento dire in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio il 22 di luglio che il Green Pass era fondamentale come strumento di libertà, perché potevamo frequentare posti Covid free, dove praticamente il vaccino non c'era, poi dopo la scienza mi dice che col vaccino, e lei ha davanti un esempio, perché ho fatto il co-op, due dosi di vaccino, ho fatto il vaccino, allora sì, ma voglio dire in 30 secondi, scusi, finisco velocissimamente, ma quando uno mi dice che il Green Pass è un modo, è uno strumento di libertà, ma allora perché le discoteche sono chiuse, ma perché gli stadi devono avere una capienza ridotta, perché al cinema una capienza ridotta, e perché io devo controllare come ristoratore se c'è il Green Pass o no, sulle metropolitane invece controllori non ci sono?